Lo sapete se mettiamo 2 miliardi di euro all'anno, da qui al 2020, negli eco bonus, produciamo 600.000 posti di lavoro nuovi in Italia. Qui abbiamo un governo che si vanta di 40.000 posti di lavoro in più. Stiamo parlando di un'altra scala dei posti di lavoro. Perché non si fa? Non perché sono incompetenti. Io ho smesso di chiamarli incompetenti perché se tu li chiami incompetenti gli stai fornendo un alibi. L'incompetenza politica è un alibi. Qui esiste la mala fede, sono diabolici nel modo in cui agiscono. Perché se nello stesso anno in cui mi dicono che non ci sono i soldi per fare il microcredito alle imprese, mi dicono attraverso gli atti che ci sono 4 miliardi di euro per sbloccare le piattaforme petrolifere nei golfi più belli che abbiamo in questo paese, significa che tu stai viaggiando in un'idea di paese che è quella legata, guarda caso, alle lobby che ti finanziano. Se noi siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, dobbiamo ringraziare Marchionne o il 99% di piccoli e medi imprenditori che in questo paese lavorano ogni giorno al Made in Italy, all'artigianato o agli altri settori. Il patto per la salute farà sì che oltre 200 esami ospedalieri sanitari non si potranno più fare in questo paese passati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma dovranno pagarli i cittadini. Secondo un criterio, se non stai veramente male non puoi fare l'esame. Io rispondo, ma come faccio a sapere se sto male, se non faccio l'esame? Fatevi un'attacca al cervello, fatevi un'attacca al cervello, governo Renzi e ministri vari. L'obiettivo del nostro reddito di cittadinanza è che nessuno ne abbia più bisogno in questo paese, perché il sistema che c'è negli altri stati europei si basa su un concetto fondamentale. Non hai il lavoro o ne hai uno che non ti permette di arrivare a fine mese? Puoi formarti, innovare le tue competenze e entrare nel mondo del lavoro dove serve. Ovviamente è una manovra economica che creerebbe a ritmo ogni anno il 2% in più di PIL. Non era mai successo nella storia dell'Occidente che forze politiche si dimezzassero gli stipendi per far partire nuove occasioni di lavoro. Io ho proposto una cosa, proprio per cercare di raccontarlo il più possibile, che d'ora in poi a tutte le trasmissioni TV che partecipiamo, partecipiamo in diretta dalle vostre attività commerciali. Perché se i cittadini non vedono realmente quello che facciamo, non vedono realmente che l'abbiamo fatto, giustamente non ci credono. Perché questa è una cosa a cui pochissimi credono, perché è una cosa a cui non siamo stati abituati, quando invece dovrebbe essere la normalità. Tu non dovresti ringraziarci per quello che abbiamo fatto, perché tra l'altro sono soldi tuoi, delle tasse che paghi con la tua attività, che contribuiscono a pagare gli stipendi dei parlamentari. Noi governiamo in 12 comuni italiani in cui Equitalia non c'è più, l'abbiamo cacciata da tutte e 12, non abbiamo rinnovato nessuna delle convenzioni. E cerchiamo di fare un lavoro fondamentale che è quello della riscossione coscienziosa. Se tu mi devi 100 euro, è vero che se ne approfitti della mia cortesia io ti metto more, agi e interessi. Però l'obiettivo è rateizzarti quello che non riesci a darmi in modo tale che tu me lo possa dare, senza però che l'importo aumenti. Equitalia non ha riscosso 400 miliardi di euro di tasse, di cui 360 sono ancora crediti esigibili. Quindi significa che, vi ricordate, 760 miliardi di euro è il nostro bilancio dello Stato al netto degli interessi sul debito. Equitalia non ha riscosso 400 miliardi di euro. Noi abbiamo bisogno di personale nella giustizia, è quello che portiamo avanti noi, cioè di investimenti. Però se tu aumenti il personale della giustizia c'è più probabilità che vada ad arrestare un politico. E questo per alcuni partiti è un problema grosso. Noi non crediamo di essere perfetti, 10 milioni di euro intaccano qualsiasi animo umano. Noi abbiamo preso i nostri soldi, li abbiamo messi su un fondo pubblico e attraverso una procedura legislativa voi potete accedervi. Ci sono delle regole dello Stato per accedere ed è la garanzia che noi quei soldi non li maneggiamo. Perché tutto può succedere, poi poteva anche non succedere nulla, però anche i criteri discrezionali preferiamo che li gestisca lo Stato piuttosto che il Movimento 5 Stelle.